Un rimorchio carico di rifiuti nello specifico elettrodomestici è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza con l'ausilio dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane nel porto di Bari. Finanzieri e doganieri hanno intercettato il carico composto da circa 300 lavatrici e forni di seconda mano, trasportato su un autocarro con targa bulgara in procinto di imbarcarsi verso Durazzo in Albania. Dall'ispezione però è emersa la mancanza della prevista documentazione che ne certificasse l'efficienza e la conseguente riutilizzabilità e che il carico quindi fosse costituito di fatto da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche anziché come dichiarato da apparecchiature riutilizzabili scaturendone in sostanza una spedizione illecita di rifiuti sanzionabile penalmente. L'attività di controllo così ha portato al sequestro penale della merce e del rimorchio per gestione illecita e traffico di rifiuti e alla denuncia del responsabile della ditta esportatrice. Grazie. 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 Grazie.